Cari amici di calciomercato.com ci sono alcune anomalie nel divorzio di Antonio Conte dalla Tottenham sia per il presente sia per le prospettive dell'allenatore. La prima anomalia è che resta alla guida del Tottenham il suo vice Stellini, quindi lo staff compatto e di fatto il proprietario del Tottenham affida la guida al vice di Antonio Conte. La seconda anomalia è che nel comunicato con molta freddezza si saluta Antonio Conte ma non si ringrazia come al solito per il lavoro svolto e tantomeno gli si augurano le fortune per il futuro. Terza anomalia è che si parla qui in Italia, solo qui in Italia, di una buona uscita che in realtà non esiste perché il contratto di Antonio Conte sarebbe arrivato alla scadenza naturale il 30 giugno. E poi qual è l'altra anomalia, la cosa strana? Che per Antonio Conte si aprono tante prospettive in Italia, all'estero forse sì, anzi all'estero sicuramente sì. Qui in Italia queste prospettive però si scontrano con alcune realtà delle quali bisogna tenere assolutamente conto. Si è parlato di Milan, ma il Milan ha fiducia in Pioli indipendentemente da come andrà a finire questa stagione perché considera il lavoro di Pioli ottimo e non soltanto sul slancio dello scudetto dell'anno scorso. Per esempio si parla di Juventus, ma guardate che alla Juventus c'è la stima del club nei confronti allegri che va anche oltre un contratto peraltro oneroso e in scadenza 2025. Si parla anche di Inter e qui viene il bello. Perché facciamo due conti sull'Inter. Allora, per prendere Antonio Conte l'Inter rinuncia a Spalletti e lo paga mentre Spalletti nelle campagne lì in Toscana di Certaldo, nelle zone di Firenze, zone attorno, e nella sua campagna per due anni Spalletti incassa all'ordo, in pratica costa all'Inter all'ordo Spalletti e lo staff circa una ventina di milioni. Dopodiché arriva Conte. Mentre vengono pagati questi 20 milioni, Conte più o meno costa l'ordi una ventina di milioni all'anno, Conte e lo staff. Perché Conte prende il doppio dello stipendio di Spalletti. Quindi, 20 milioni per Spalletti, 20 più 20 per i due anni di Conte, più la buon'uscita 8 milionetti, cioè 14 lordi. Totale siamo vicini ai 75 milioni. Cioè i due anni in panchina di Conte all'Inter sono costati 75 milioni. Dice sì, però sono stati soldi spesi bene. Certo, su questo è indiscutibile, ma in ogni caso sono soldi che la storia di Conte e testimonia poi vanno a finire con un litigio, con un divorzio e con eventualmente un'altra buon'uscita. Quindi, a livello aziendale, l'Inter che va a ripetere l'operazione Conte è qualcosa di improbabile. Anzi, c'è uno slogan di pubblicità che diceva niente è impossibile. Quindi, bisognerebbe dire anche qui che non è impossibile, semplicemente improbabile. Vabbè, non sarà impossibile, ma tutto c'è un limite. E il limite del buonsenso sull'Inter. Perché nessuna società, di qualsiasi livello, di qualsiasi ambito, non soltanto sportivo, nessuna proprietà che sia cinese, americana, inglese, italiana, o chissà, scegliete voi il paese, potrebbe riprendere un allenatore che è costato così tanto, mentre c'era un altro allenatore pagato, che poi è l'allenatore che sta vincendo lo Scudetto, che poi alla fine ha litigato e è andato via anche con la buon'uscita. È un'operazione che non ripete nessuna società. Ecco perché l'Inter va tolta dal futuro di Antonio Conte. Forse resta la Roma, quello sì. Perché è una situazione ancora tutta in divenire. Dipenderà dall'ammissione alla Champions League, se Mourinho resterà, ok. E allora qui però diventa paradossale, perché se la Roma va in Champions League, Mourinho resta, così si dice. Ma se invece non va in Champions League, Mourinho va via e Conte va alla Roma in Europa League e con un budget immaginiamo molto limitato? Ecco perché il futuro di Conte è molto più probabile che sia all'estero che non in Italia. Poi per carità, niente è impossibile, anche quando tutto c'è un limite. Vedremo.